Musica Se ti trovi davanti a un uomo e capisci appunto che è il compagno della tua vita, cosa ricucineresti per, così, omaggiare te stessa e anche lui? Allora, gli farei della pasta e poi un antipasto e un gambero rosso crudo. E se invece trovi un uomo solo per una serata? Non si mangia per una serata solo. Dissetante? Acqua. Cedevole? Muro. Muro. Fondente? E la prima cosa mi è venuta in mente il ceccolato, però è come dire, è il ceccolato. Perfetto.